Se volessimo ottenerci alla definizione di zona libere come risultato del fatto che hai sconfitto, che hai spinto fuori dai tuoi confini, dai confini di una comunità, dai confini di un territorio, le forze di occupazione, liberando quindi anche le possibilità di nominare o di far funzionare la luce del sole, CLN. Il problema è che esiste o non esiste pubblicamente, visibilmente una vita politica. Se nella bassa modenese abbiamo un livello di partecipazione di massa alle SA, se la Walter Tabacchi ha in realtà un tale radicamento in tutti i suoi distaccamenti, che non dico che controlla tutto il territorio, ma è capace di opporsi militarmente, di resistere alle rappresaglie e di rilanciare senza perdere consenso e continuando anzi ad accumularne. Però lì si combatte. C'è un'altissima capacità di coinvolgimento di adesione di massa, in questo caso si può dire, alla lotta armata. Quindi non c'è un territorio liberato e neanche libero dal mio punto di vista, ma c'è una situazione dove il livello di adesione di massa alla lotta armata è straordinario nella media nazionale. una resistenza che parte molto più tardi che in altre zone e che si afferma proprio a partire comunque da una specificità di rapporti con il tessuto economico e con la composizione sociale di quella zona che è del tutto eccezionale nel panorama nazionale. sulla 65esima ci sono molti esempi di una politica di estrema, lungimirante attenzione ai rapporti con la popolazione, per cui la lotta agli ammassi, le requisizioni e la distribuzione mirata di risorse, di carne o che so io, alla popolazione a seconda anche dei bisogni. È una cosa che è possibile se tu hai un rapporto organico con quel territorio, è possibile se quelli che stanno facendo i gappisti in realtà non sono arrivati da lontano ma sono lì, sono l'espressione di una società che localmente si arma e si difende. In qualche modo è questa un po' la differenza radicale. Gli emiliani che sono andati a inventare la lotta armata in Veneto a partire da Longarone avranno sempre dei problemi, sono dei comunisti in una terra che non è la loro, avranno un grande fascino sui giovani più combattivi, ma quando provano a spostarsi per esempio verso il Trentino ogni contadino che li vede va a chiamare i tedeschi, sono arrivati i forestieri, i requisitori, quelli che mi mangiano addosso e per di più che mi attirano, non hanno niente a che vedere con quel territorio, se non da un punto di vista ideale ideologico, ma se l'ideologia e la cultura politica è scarsamente diffusa o nulla, o addirittura reazionaria e fascista, è difficile avere un buon rapporto. Quindi la grande specificità è che lì tu hai i gappisti noti a tutti e che sono a casa loro. Mi pare che anche nel Ravennate ci sia una situazione di massificazione, di adesione, perché la storia della Gordini è altrettanto impressionante come quella della Walter Tabacchi. Casomai c'è da chiedersi perché Modena e Ravenna, che non sono le città più importanti dell'Emilia Romagna, hanno in realtà questa, a partire da organizzazioni, da comando militare che parte da lì, hanno una capacità di massificazione, di radicamento.